Care bambine e cari bambini, per festeggiare l'arrivo dell'estate vi proponiamo di tuffarci in fondo al mare e di immergerci alla scoperta delle meraviglie del fundale marino, tra rocce e coralli e fra gli abitanti che lo popolano, come stelle marine, meduse, polpi e pesciolini, che nuotano liberamente e si rincorrono allegramente tra le onde. Sapete, quando un pesce piccolo non riesce a trovare del cibo, a volte chiede aiuto a uno più grande di lui e questo è ciò che accade ad un pesciolino che conosciamo tutti, è Nemo. Questo buffo pesciolino tutto colorato, di arancione e nero, ha un nome divertente, infatti si chiama pesce pagliaccio. La sua casa è l'anemone di mare, un corallo con la bocca che sembra un fiore che si apre e si chiude. Il nostro pesciolino pagliaccio conosce un buon trucchetto per procurarsi il cibo. Si fa inseguire da un grosso pesce affamato. Poi si nasconde tra i tentacoli urticanti del suo amico anemone, che mangia il nemico. A questo punto il nostro pesciolino dà una bella pulitina alla sua casa, gustandosi gli avanzi. Questa bellissima amicizia tra il pesce pagliaccio e l'anemone di mare si chiama simbiosi e insieme stanno proprio bene. Quindi abbiamo scoperto che anche in mare, come sulla terra, grandi e piccoli hanno bisogno gli uni degli altri. I grandi proteggono i piccoli e i piccoli in cambio li aiutano. Bene, bambine e bambini, ora Nemo vi saluta. A presto! Ciao, ciao!